È un'apertura che spalmiamo su quattro sere, adesso inizia proprio l'impiego ordinario della sala. Quattro film che dicono le quattro direzioni di cammino della nostra sala. Stasera Fratello Dove Sei, un film del 2000 di Fratelli Cohen, un film di qualità, un film del passato. In questa sala non faremo solamente le nuove uscite, ma recupereremo anche il meglio della cinematografia. E saremo attenti ai contenuti. Fratello Dove Sei parla di una comunità, parla di tempi difficili, della possibilità di fare il bene anche in tempi difficili. E ditemi se non è la metafora del tempo che viviamo. E la necessità di avere un obiettivo nella vita, come accade in questo film. Davanti a me c'è il proiezionista, allora da quanti anni e perché questa passione o lavoro? Devo ammettere che la mia prima esperienza, beh, sono sempre stato interessato alla tecnologia, al mondo del cinema. E il poter conciliare entrambe le cose è una buonissima occasione che non mi sono lasciato sfuggire. C'è un gruppo estremamente numeroso di volontari che hanno deciso di riaprire questo teatro dopo 40 anni di chiusura. Come mai ha deciso di diventare volontaria per il teatro cinema Quilone? Diciamo che mi occupo già di volontariato in città e di conseguenza ho preso in considerazione anche il discorso del cinema. Mi sembra una bellissima opportunità per la città, è da tanto tempo che l'Ecco non ha un cinema. Ed è estremamente bello anche vedere come i volontari, che siamo veramente tanti, abbiamo aderito a questa iniziativa. Stasera un premio prestigioso ai volontari. Credo che sia un evento straordinario in Italia assistere all'apertura di un cinema. E quindi il premio è dovuto e credo sia normalissimo, anzi è qualcosa che dovrebbe essere normale. E quindi siamo venuti apposta a Roma per poter assistere a questo evento e premiare queste persone che hanno dato la loro energia e la loro passione per riaprire una sala importante qui a Lecco.